Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, più breve per lasciare spazio a Diretta Stadio che seguirà il turno infrasettimanale di Serie D. Partiamo dalla politica perché bufera sui test rapidi antigenici, la capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi lancia pesanti accuse contro la giunta Marsilio rispetto all'acquisto dei test e alla scarsa efficacia di questi. Gli screening a tappeto infatti potrebbero aver causato in maniera indiretta una maggiore diffusione del virus proprio per la sensibilità meno elevata rispetto alle raccomandazioni del Ministero della Salute. Sentiamo tutto nel servizio di Giuseppe Dintino. Gli screening di massa anti-covid rischiano di peggiorare la situazione epidemiologica. Questa l'accusa shock del capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi che punta il dito contro la gestione Marsilio della crisi sanitaria. Finora le iniziative di test rapidi promosse nei vari comuni sono sempre state ritenute una delle armi più efficaci per rallentare la diffusione del virus, con tanto di appelli su appelli per stimolare la partecipazione dei cittadini. Ma ora con un inquietante effetto boomerang gli screening potrebbero aver generato l'effetto contrario. Abbiamo ricevuto una segnalazione direttamente dai medici volontari che stanno effettuando questa campagna di screening con i test rapidi, quindi non con il tampone molecolare, che ci hanno segnalato un tasso di positivi bassissimo, troppo basso da trasformare l'ottimismo in preoccupazione. Test rapidi antigenici che potrebbero essere poco affidabili, il Ministero della Salute aveva raccomandato, senza alcun obbligo, di utilizzare solamente test la cui sensibilità si è dimostrata maggiore del 97%, una soglia di affidabilità questa è ritenuta eccessiva dalla Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo invece ha svolto un'indagine di mercato tramite l'ARIC per reperire dei test con sensibilità maggiore al 90%, quindi minore rispetto a quello raccomandato dal Ministero. Di conseguenza, se è vero che i test non possono far risultare solo falsi positivi ma anche falsi negativi, è allora probabile che chi fosse erroneamente convinto di non aver contratto il virus abbia potuto abbassare la guardia, diffondendo il Covid con maggiore facilità. Quattro i fornitori dei test abruzzesi. Al momento non è chiaro quanto la Regione abbia effettivamente speso di quella milione di euro stanziato nella variazione di bilancio per l'acquisto dei test. Sono state ripartite, insomma, questo milione di euro tra i quattro fornitori. Di tre fornitori compare la cifra esatta del contratto sottoscritto sul bilancio. Su Proxima SRL c'è una cifra diversa per cui non sappiamo se sia stato impegnato tutto il milione o soltanto intorno a 600 mila euro. La romana Proxima SRL, che avrebbe venduto i test al prezzo più alto, risulterebbe avere come amministratore unico l'imprenditore della comunicazione Michele Russo, che era stato nominato nel 2009 presidente della GTM dall'allora governo di centrodestra. E adesso una notizia che riguarda ancora l'emergenza sanitaria con il Covid Hospital di Pescara. Al completo la struttura realizzata in tempi record, lo ricorderete, in primavera per far fronte all'emergenza sanitaria e dunque è praticamente al completo, come aveva annunciato al nostro microfono proprio il professor Parruti, che dirige questa struttura. È in corso già da ieri il trasferimento di parte dei pazienti che al momento vengono portati nell'ospedale dell'Aquila. È in aumento, infatti, i ricoveri nella struttura pescarese. I posti che si liberano con le dimissioni vengono rapidamente occupati. Tanti in queste ore gli accessi al pronto soccorso da parte di soggetti che necessitano di ricovero. Aumentano gli arrivi di persone con insufficienza respiratoria, dice il direttore delle malattie infettive, proprio il professor Giustino Parruti e questo elemento conferma il peggioramento della situazione. Proseguiamo adesso con la cronaca giudiziaria. È stata rinviata il 26 febbraio l'udienza davanti al GUP del Tribunale dell'Aquila, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica dell'Aquila per l'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla strada dei parchi concessionario di A24 ed A25, polemiche sulla scelta del MIT di non costituirsi parte civile. Sentiamo. Strada dei parchi chiede nuove prove di carico con un incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale dinnanzi il Tribunale dell'Aquila a carico dell'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla strada dei parchi concessionaria delle autostrade a 24 ed A25. L'udienza di questa mattina davanti al GUP del Tribunale Aquilano, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica, è stata rinviata il 26 febbraio. Il giudice si è riservato di decidere anche sulla costituzione di parte civile dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, mentre non si è presentato il Ministero dei Trasporti. Per l'ANAS, che ha fatto richiesta di ammissione a parte civile, il giudice si è riservato con ordinanza. La difesa di Toto però ha contestato la richiesta di ANAS perché ci sarebbero sentenze che hanno stabilito che in questi casi l'ANAS non ha diritto alla Costituzione Autonoma rispetto al Ministero. Toto è sotto inchiesta insieme ad altri tre dirigenti dello stesso gruppo e la Procura Aquilana contesta loro a vario titolo i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, inadempienza e frode nelle pubbliche forniture. I PM si riferiscono alla sicurezza strutturale e sismica dei ponti e dei viadotti nei tratti ricadenti sul territorio aquilano, in particolare sul pericolo di crollo totale o parziale delle pile e degli impalcati di 9 dei 25 viadotti. Oltre al filone aquilano ce ne sono altri aperti a Pescara, Sulmona e Teramo che riguardano la corretta manutenzione dei tratti autostradali. Abbiamo preannunciato al giudice la nostra richiesta di incidente probatorio, ha spiegato l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, legale di strada dei parchi, al termine dell'udienza di questa mattina. Una richiesta affinché si svolga una perizia utile a confermare non solo che non c'è carenza di manutenzione, spiega ancora Cagliazza, ma che non c'è il benché minimo rischio per la circolazione stradale su A24 ed A25. L'avvocato ha spiegato anche che ci sarebbe una perizia d'ufficio del Tar del Lazio che già conclude in questo senso che, a differenza di quella del pubblico ministero, ha fatto le prove di carico. In riferimento al fatto che siano le tre procure abruzzese ad indagare, l'avvocato Cagliazza ha chiarito che indagano tutti sulla base di un'unica denuncia, cioè degli esposti presentati dall'Associazione Ambientalista ed in particolare dal Forum dell'Acqua Abruzzo, che definisce una vergogna la decisione del Ministero dei Trasporti di non costituirsi per ora nel procedimento in corso al Tribunale dell'Aquila. I dirigenti del Ministero, in particolare Migliorino, scrivono i rappresentanti dell'Associazione, hanno puntualmente rilevato gravissime inadempienze del concessionario. Evidentemente fare chiarezza e giustizia, conclude il Forum dell'Acqua, non interessa a questa politica. I carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila hanno arrestato un giovane accusato di aver ucciso il dipendente dell'ASM Paolo D'Amico, trovato morto il 24 novembre 2019 nella sua casa di Barisciano. Alla individuazione del presunto assassino si è giunti al termine di una lunga e complessa indagine condotta dai militari del nucleo investigativo del reparto operativo e coordinata dal procuratore capo Michele Renzo e dal PM Simonetta Ciccarelli. Il fatto di sangue ha fatto scalpore, lo ricorderete, è sconvolto una comunità non certo abituata a episodi di cronaca così gravi. Il provvedimento di custodia cautelare è stato firmato dal GIP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella. Secondo quanto si è preso l'uomo è custodito nel carcere di Frosinone. Gli elementi che hanno portato all'arresto sono appunto oggetto dell'attività investigative e nascono soprattutto dalle testimonianze di numerose persone, parenti ed amici. Andiamo avanti ora e parliamo dell'IZS. Questa mattina a Teramo, cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo polo dell'Istituto Zooprofilattico d'Abruzzo e Molise. Saranno realizzati in 12 mesi 5 mila metri quadri di laboratori per un investimento complessivo di 17 milioni di euro. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. 5 mila metri quadrati di laboratori. Nasce il nuovo polo tecnico dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo. Oggi è stata posta alla prima pietra un investimento importante per l'intera comunità scientifica abruzzese e internazionale. 17 milioni di euro per questo primo lotto che sarà realizzato a collaterrato alto a fianco del centro di formazione dell'IZS. Un sogno che diventa realtà. Cosa significa questo per l'IZS di Teramo? Significa che sono 20 anni che sogniamo di avere una nuova sede, finalmente sono arrivati i fondi, finalmente siamo riusciti a fare una progettazione esecutiva e finalmente depositiamo la prima pietra. È un edificio di quasi 5 mila metri quadrati con un contenuto tecnologico di altissimo livello, perciò costa così tanto, ma stiamo già appaltando il progetto esecutivo di tutto il resto dell'Istituto perché abbiamo altri fondi per andare avanti con il secondo e il terzo lotto. Presidente, è una prima pietra importante oggi? Sì, siamo qui per mettere una prima pietra sulla costruzione di questa nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico, un istituto che per la nostra regione, per il nostro territorio è stata un'arma decisiva nella lotta al Covid, ancora oggi continua a svolgere fino in fondo il suo lavoro di laboratorio per i tamponi e non solo, anche nella ricerca, l'individuazione delle varianti che sono presenti sul territorio ci ha consentito di adottare comunque azioni mirate, vedi il caso di Guardiacrele che abbiamo immediatamente individuato e circoscritto, anche se purtroppo ormai la diffusione delle varianti è molto ampia su tutto il territorio regionale e nazionale. E mentre si inizia a costruire la nuova sede tecnica dell'IZS a Collatterrato, il Comune di Tenamo pensa di riorganizzare urbanisticamente l'area della sede principale dell'Istituto in via Campo Boario. Come viene riorganizzata poi l'area? C'è ovviamente un ragionamento aperto, la volontà è assolutamente quella di mantenere il presidio, anche rendendolo compatibile, ancor più compatibile con l'assetto urbanistico dell'area, della zona, del quartiere. Questo intervento di oggi lo vedo più che come uno spostamento, una sostituzione, come un rafforzamento, un potenziamento del presidio dell'IZS sul territorio, l'IZS che va assolutamente valorizzato, più di quanto sia stato fatto finora perché costituisce un'istituzione fondamentale per la città e non solo ovviamente per la città di Terme. Questa mattina sono iniziati a Pescara i lavori della strada pendolo, presente all'apertura del cantiere il sindaco Carlo Masci. Aperto questa mattina il primo cantiere per la realizzazione della strada pendolo di Pescara che collegherà la periferia al centro città. Un'opera attesa oramai da tanti anni e da troppi anni. Abbiamo superato tutte le questioni burocratiche, tutte le questioni legate agli espropri, molto complesse e oggi partiamo con questo intervento che ovviamente è il primo ma non sarà l'ultimo perché noi adesso facciamo un intervento di circa un milione di euro che ovviamente comporterà il miglioramento della viabilità in questa zona ma anche avrà caratteristiche importanti sulla sicurezza del territorio. Poi proseguiremo con il pendolo 2 che andrà fino alla Tiburtina e poi con il pendolo 3 che è quello che sarà realizzato a Via Pantini. Quindi un intervento complesso, strategico che migliorerà la sicurezza e la viabilità tenendo conto anche delle componenti più deboli della mobilità, quindi i pedoni, i ciclisti, il mezzo pubblico, il mezzo privato. Un intervento a 360 gradi, questo intervento in particolare durerà circa sei mesi, un investimento di un milione di euro. Abbiamo fatto non una gara al massimo ribasso ma una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e che cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo scelto il progetto che migliorava quello iniziale. I lavori affidati alla Tiatina Cogema SRL hanno un valore complessivo di quasi un milione e mezzo di euro. La nuova arteria stradale sarà corredata di pista ciclabile e secondo il sindaco il nuovo tratto sarà utile anche a riqualificare zone degradate della città. Alla fine di questo intervento noi avremo strade nuove, strade sicure e soprattutto strade che entreranno nel ventre molle della città, nelle zone più difficili dove c'è degrado oggi e c'era degrado già negli anni passati ed elimineremo finalmente questo degrado e quello che i cittadini aspettano da troppi anni. Adesso lo sport, calcio di Serie B in primo piano, seduta mattutina per il Pescara al Poggio degli Ulivi, primo allenamento per due volti nuovi del Delfino. I centrocampisti Andrea Tabanelli arrivato in prestito dal Frosinone e Daniele De Sena prelevato a titolo definitivo dal Brescia. Già ieri invece aveva sostenuto la sua seduta in biancazzurro Niccolò Giannetti arrivato in prestito dalla Salernitana. Proprio la squadra campana allenata da Fabrizio Castori ha firmato a sorpresa l'attaccante norvegese Julian Christoffersen che era in predicato di legarsi al Pescara. Invece dopo aver sostenuto le visite mediche in Abruzzo l'attaccante ha sottoscritto con la Salernitana un contratto fino al giugno del 2024. La Serie C adesso, terzo risultato utile consecutivo per il Teramo che pareggia a Foggia a 0, partita noiosa che i biancorossi hanno controllato senza mai però affondare per tentare di prendere l'intera posta. Una partita che lascia in eredità l'infortunio a Domenico Mungo che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse settimane. Distorsione al ginocchio, per lui si teme anche l'interessamento del legamento collaterale. Ci saranno chiaramente gli accertamenti nelle prossime ore. Andiamo a vedere le fasi salienti del match e poi ascoltiamo le parole dell'allenatore Massimo Paci nel servizio di Ania Cantagalli. Finisce 0-0 il match playoff tra Foggia e Teramo che continuano così ad andare avanti a braccetto in classifica. Davvero poche però le emozioni allo zaccheria. Paci conferma in blocco la formazione che ha battuto il Bari nell'ultimo turno di campionato con Pinzauti in avanti e ancora a comporre il tridente con Bombaggi e Costa Ferreira. Nel Foggia di Marchionni c'è invece Anelli a prendere il posto in difesa dello squalificato Germinio. Si inizia a buoni ritmi e con il Foggia che mette in mostra quanto ami le ripartenze e l'attacco alla profondità. In casa Teramo però si concede poco e per i primi 20 minuti si registra sostanzialmente solo una grande attenzione da una parte e dall'altra. Non che vada meglio nel prosieguo tra errori tecnici e paura di scoprirsi. Se si pensa infatti che per la prima mezz'ora abbondante gli unici tentativi verso lo specchio della porta sono il tiro molto debole di Curcio al 32esimo e quello dalla distanza di Arrigoni al 36esimo che finisce fuori, è facile comprendere quanto la prima frazione sia di fatto avara di emozioni. Facendo uno sforzo è da registrare il tentativo di qualche minuto dopo di Dienno servito in appoggio da D'Andrea che finisce molto lontano dallo specchio seppur il centrocampista da buona posizione. L'occasione potenzialmente migliore per il Teramo la costruisce per certi versi il Foggia che si complica la vita in disimpegno al 41esimo ma Costa Ferreira chiude troppo il destro e manda a lato. Il diavolo rischia prima di rientrare negli spogliatoi quando Vittorini fa venire i brividi a Lewandowski girando di testa in calcio d'angolo una punizione del Foggia. La ripresa inizia con la capocciata di Pinzauti che gira in una punizione dalla destra di Costa Ferreira trovando però Fumagalli pronto a fermare il pallone. La gara poi torna lungo i binari della noia e dal quarto d'ora il Teramo perde Mungo per un problema alla caviglia destra. Al suo posto entra Ilari. Uno spento Curcio lo segue poco dopo lasciando il campo a Vitale con D'Andrea che avanza in attacco. Non riuscendo da sbloccare la gara prima Ilari al 17esimo e poi Bombaggi 5 minuti più tardi provano in vano da fuori aria. Gli animi si scaldano alla mezz'ora dopo un faccia a faccia tra Bombaggi e Galeota Fiore con Paci da una parte e Marchioni dall'altra a raffreddare gli animi. K è l'ultima carta che Paci sceglie di giocarsi dopo Ilari e Gerbi e proprio dall'ex Roma parte il cross che Costa Ferreira in pieno recupero tocca per Ilari che mette in gol ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco ed il direttore di gara annulla così quello che sarebbe stato il gol vittoria per i Biancorossi. Il Teramo dà comunque continuità alla vittoria contro il Bari. Domenica Albonolis arriverà al Monopoli. Il Teramo che volevo è questo però l'avrei voluto con l'aggiunta di un gol per noi così vincevamo la partita che alla fine è quello che ci è mancato. Mi spiace perché hai fatto un'analisi giusta secondo me la partita è stata in controllo peccato che ci è mancato il guizzo che ci avrebbe fatto vincere la partita però accettiamo il risultato è una squadra comunque ben organizzata ben messa in campo non era facile oggi il terreno non era nelle massime condizioni quindi accettiamo anche se dispiace perché se avessimo fatto qualcosa in più secondo me potevamo portare a casa la vittoria. Sono soddisfatto perché i ragazzi sono stati bravi a non prendere gol. La partita con la Vitervese più o meno era sullo stesso filone però abbiamo ceduto e abbiamo preso gol. Oggi i ragazzi sono stati bravi nella fase difensiva perché abbiamo sempre tenuto il Foggia lontano dall'area di rigore non ricordo ti riporta da parte del Foggia e non è facile perché comunque una squadra che ha 32 punti la fase difensiva è stata buona. Magari in fase negli ultimi 25 metri potevamo fare ma non qualcosa in più perché uno eravamo un po' stanchi dalla partita del Bari e due c'era un campo che non mi permetteva grandi qualità perché loro comunque difendevano sempre a 5 e non era facile per i nostri trovare il quizo. Ci è mancato quello alla fine perché poi queste partite sono in grande equilibrio e a volte uno ha giocato del singolo come è successo col Bari la giocata dei bombaggi ti fa vincere una partita però sono contento perché comunque dopo la prestazione dei Bari mantenere così alta la concentrazione non era facilissimo secondo me. Non abbiamo concesso un tiro in porta all'avversario denota grande compattezza, grande attenzione e concentrazione quindi da quel punto di vista sì dal punto di vista del risultato è un risultato che accettiamo. Ci è mancato qualcosa per vincere la partita e quindi dobbiamo rispettare il perdetto del campo tutto qua, continuare a lavorare. Adesso domenica abbiamo una partita altrettanto importante, ricaricare subito le pile per essere pronti domenica. Il TG6 termina qui, prossimo appuntamento alle ore 19, adesso linea a diretta stadio per seguire la giornata, il turno infrasettimanale in Serie D, poi vi ricordo anche l'appuntamento alle 19.30 con l'Abruzzo del pallone. Grazie ancora e buona giornata.